Un 48enne residente sul territorio comunale di Sulmona è stato allontanato dalla casa familiare dal giudice per le indagini preliminari Francesca Pinacchio che ieri le ha inflitto la misura cautelare accogliendo le richieste della procura. L'uomo è accusato di aver maltrattato per sette anni la sua ex. Secondo l'accusa da 2017 ad oggi l'uomo avrebbe posto in essere condotte prevaricatrici nei confronti della donna costringendola perfino a accompagnarlo sulla costa abruzzese in una circostanza per l'acquisto di sostanza stupefacente. La vittima dei maltrattamenti che non ha fatto denuncia si era recata alla polizia con alcuni lividi in volto. Nessun referto è stato rilasciato dall'ospedale ma le indagini hanno comunque consentito di attivare codice rosso che ha portato polizia e procura a chiedere ottenere la misura cautelare dal giudice. Il GIP ha deciso di applicare a suo carico il divieto di avvicinamento a meno di 500 metri della persona offesa oltre a braccialetto elettronico. Il 48enne è stato quindi indagato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia da riscontrare durante le indagini.